Siamo a Verona dalla Vion Road, il centro vendita di casa Wingham, per il meeting annuale di presentazione della nuova gamma. Sui piazzali, modelli che hanno fatto la fama del marchio, come gli Oasi e il prezioso Micros. All'interno i modelli rinnovati per il 2012, sempre nel segno vincente di Wingham, le impareggiabili monoscocche in vetroresina. Con noi Daniele Giorgini, redattore di Plenair, sempre attento a tutti i particolari delle nuove collezioni. Il Brownie 5.8, ultimo nato tra le monoscocche, con le sue caratteristiche linee arcuate, cambia i colori degli interni, con arredi di nuovo design e tessuti più fantasiosi. Cambia pure la dinette a quattro posti, con due letti a castello in coda, per un'omologazione a cinque posti, possibile anche per il peso ridotto di soli 2540 kg. Il modello piace molto ai concessionari stranieri, che ne studiano attentamente ogni caratteristica, con teutonica scrupolosità. Gli Oasi, invece, propongono all'esterno gli oblò panoramici Skyview, sul letto bascolante, con nuovi tessuti e mobili ristilizzati. L'Oasi 610 ha accesso posteriore di fronte alla toilette, dalle pareti curve, eleganti ed ergonomiche, con la cucina sagomata antistante, che si apre su un grande e confortevole living decisamente di impronta nautica. Comodo e funzionale anche il locale toilette, con lavabo angolare e doccia contrapposta, interamente termoformato, sui toni del grigio. È la titolare Lorena Turri a presentare le novità 2012. Il cliente effettivamente ha la possibilità di personalizzare il mezzo dalla cabina, cioè dal punto della motrice e poi dal punto. Puntando l'accento sulla leggerezza delle monoscocche Wingham, che consentono carichi residui consistenti. Nuove fantasie cromatiche anche per il mini gioiello Micros, volute dalla sofisticata clientela tedesca. Blu intenso all'esterno e senza esotiche per gli interni, con un divertente accostamento. E dal 2012 ci sarà anche la meccanica Volkswagen a trazione integrale e cambio automatico. E per concludere con un piatto gustoso, ecco ancora l'Osi 610P a quattro posti, con letti a castello in coda e di netta L con divanetto laterale. Col grande gavone in coda risulta ideale per l'uso della famiglia Tipo. E da Verona è tutto.